Incontro bellissimo, vinto in uno dei campi più caldi del girone, ma con un pubblico sempre corretto e rispettoso nei confronti dei viaggianti. I ragazzi del presidente Ruggiero erano chiamati al riscatto dopo la sconfitta casalinga con Trani. Tutti i dieci uomini messi in campo da coach lepre hanno dato l'anima per portare a casa una delle partite più belle di questo inizio di stagione. Nardò inizia meglio con un parziale di 8-0, ma i padroni di casa non fanno neanche in tempo a festeggiare che gli ospiti si rifanno sotto. Nobile e Bisnic suonano la carica, Nardò prova a tenere testa con il solo Bielic, Colella prova a dare una mano ai suoi, ma il primo tempo si chiude con il punteggio di 37-35 per gli agropolesi. Nella seconda e terza frazione sono due giovanissimi a prendersi la squadra sulle spalle, Murolo e Rispoli, autori rispettivamente di 8 punti. Nardò prova a rientrare in partita, ma le conclusioni dalla distanza di Lepre e l'ottima difesa di Ciucubiche ricacciano indietro i padroni di casa. Ci penseranno Wisnic e Nobile a chiudere la partita grazie ai tiri liberi sul finale di partita. Nel prossimo turno la Cilento Basket Agropoli affronterà in casa Cerignò, la squadra che dopo un inizio incerto di campionato non ha più perso un colpo. L'appuntamento è domenica dove alle ore 18 sarà alzata la palla a due con gli agropolesi che cercheranno di portare a casa la quinta vittoria stagionale.